Da-dam-da-dam, 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 da-dam-da-dam Amiche spose, ciao a tutte da Telefede, la vostra youtuber del cuore Non me ne vogliano tutti gli altri, eh? Ma anche questo è dedicato a tutti coloro che si stanno per sposare Osservate bene questo video perché ci sono dei suggerimenti molto importanti Ci vediamo dopo! Pronto? Oh buongiorno signorina, si mi dica tutto Vuole sposarsi Massi Direi che è proprio un momento buono questo per sposarsi No, non abbiamo i fiori, quelli classici che mettono tutte le matrimoni, i pallosi No, abbiamo, guardi, una cosa molto particolare che fa di moda benissimo in questo periodo Che è l'Etila di Madagascar E... ah, guarda chi c'è E... questa è la solita polla, la spegniamo un sacco di soldi Questa porcheria qua di plastica la diamo via subito E... sì, sì, guardi E' molto particolare E quindi leggermente costosa Ma io gliela suggerisco Diciamo che per coprire il sagrato della chiesa Le potremmo chiedere sui 10-15 mila euro Ma è un prezzone, è un prezzone Guardi, vai a ordinare la macchina a gas nuova E... guardi, farà un figurone Poi i piccioni non le romperanno le scatole con il riso Anzi, se lancia il riso, cresce meglio l'Etila di Madagascar Ok? Allora mi fa sapere lei? Mi raccomando E si sbrighi perché questa poi non dura tantissimo Due macchine a gas Si sbrighi, eh? Riederci Sì, sì, grazie, sì, grazie mille Pure l'Etila del Madagascarmo Sì, sì Aspetta un po', eh? Pronto? Questo è il ristorante da Teresa, fratelli, figli, cugini Tutta famiglia, insomma E... sul lago, ovviamente Mi dica Sì, è un matrimonio? Sì Per 50 persone? Sì Allora, guardi Io farei un aperitivo del benvenuto Perché il benvenuto all'ospiti bisogna taglielo Poi un po' di antipasti Misti, salumi Che tagliamo e affettiamo noi Un po' di sottaceti, sott'olio Che famo noi E un po' di... De pesce Che andiamo a pesca a noi Poi famo la torta Ovviamente personalizzata E ci mettiamo i pupazzetti Fatti con... E... E mano... No, nostre Sì, si dice così Sì, sì E mano nostre E... Aspetti... Ma aspetti solo un secondo, eh? Mi rifilo quello che costa di più Fammi vedere Ok E... Guardi Tutto tutto viene 600 euro a persona Perché... Proprio perché è lei, eh? Perché mi sta simpatica E però sono 600 euro a persona Più... Aspetti che... Ecco E... 5 mila la torta Perché appunto è personalizzata Con i pupazzetti che fanno sempre noi E quindi... Meno... Non posso venire incontro Ecco, non posso E le bevande sono escluse Poi mi dite voi quello che volete E... La data scusi Quando sarebbe? Ah... E... Sì, no Mi facci sapere prima di subito Perché ho un sacco di prenotazioni Poi mi sa Che mi tocca pure assagli un po' il prezzo Se non si sbriga È un matrimonio a 600 euro a persona Immagino che affluenza ci sia Le faremo sapere Grazie Certo Sì Sì, quando signore? Quando signore? Sì? Il 30 luglio Fa caldo Sì Ma di quale anno signore? Del 2017 Impossibile Mi dispiace Ho la chiesa prenotata fino al 2020 Poi certo Poi tutto si può fare Mi dica Mi dica Che cosa voleva fare Mi dica Passerella Alzavelo Chirighetto Bambino e porte e fedi Sì Chiesa imbandita Crocifisso Bene Il pacchetto è completo signora Sì, sì Certo Certo Ok, bene Dice quanto costa Ma che cosa vuoi che sia È un'offerta libera signore Per i poverelli della chiesa Sa, dobbiamo rifare l'oratorio Il campanile Il campagaccetto Quella biciola E quelle aria nisse Sì Ma no Offerta libera Ecco Le dico subito Vediamo un pochettino Allora Il pacchetto completo Con 10.000 euro se salva Sì Del 2020 Ah, per forza Del 2017 Dice lei Sì Ho capito Aspetti Mi faccia controllare Lei capisce Se lei aumenta Un pochettino L'offerta Suo buon cuore Se riesce ad arrivare A 20.000 euro Lo facciamo anche domani Signora Bene La ringrazio E certo Bene Sialo da Sì Amato Jesucristo Sì Grazie Grazie Sì Sempre salutato Padre Mazza il prete Come magna Amma mia Guarda che macello Che foto 250 Miardi Di carta Che vacca Pure per terra Pronto Chi? Ah buonasera Signora Per un matrimonio Salve Ha chiamato il posto giusto Certo Ma certo Noi siamo specializzati Quanto costa Quanto costa Facciamo Signora Euro più euro Euro meno Lo so Sponge Bob Bob dice Grazie 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 Amiche Volete vedere come si risparmia? State a sentire Scusa Scusa Pronto? Buonasera Laboratorio fotografico Salve Senta E niente Noi il 30 luglio Facciamo una festa In un ristorante Siamo circa Una cinquantina Di persone Sì E volevo fare Delle fotografie E un filmino Ricordo Esatto Quanto costerebbe? Dai 250 ai 300 euro Va bene Allora ci risentiamo Grazie 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 E uno Aspettate Pronto? È il fioraio? Buonasera Senta Io devo fare un figurone Perché è il compleanno Della mia amica Devo regalarle Un bouquet di fiori Bellissimo Quanto mi costerebbe? Sì Rose Fiori di campo Margherite Gerbe Una cinquantina di euro Ecco Allora ci vediamo presto Grazie Grazie mille E due Vado a sentire Eh questo ci mette un po' Buonasera Ristorante sul lago Salve E senta Noi il 30 luglio Dovremmo fare una festa Volemmo farla Nel vostro ristorante Siamo circa Una cinquantina Di persone Mi farebbe Una sorta di menù Più o meno Capire quanto costa A persona Dai 20 ai 40 euro Eh certo Poi dipende Se per scioccarne Ok Grazie mille Grazie Gentilissimo Ci risentiamo E il prete E il prete Manco chiama Amiche mie Perché tanto Non vale la pena Mi sposo direttamente In comune Avete visto che ci vuole Basta Non di la parola magica Madrimonio La Vi spellano Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Condividete a Trivella Un abbraccio E un bacione Da Dillipede La vostra youtuber Per il verde il cuore